Mi riesce a definire in una parola l'aggiunta d'Alberto? L'aggiunta d'Alberto non mi piace, nel senso che dal punto di vista dei fatti si realizza poco o niente, e anche quando li si sollecita e dicono alla città che si sta programmando, che si raccoglieranno i frutti, però poi dopo in certi casi non si vedono manco incarichi, nemmeno lo straccio in iniziativa, e dopodiché si caratterizza per quello che a me piace di meno in politica, cioè questa comunicazione sovrabbondante in politica li corretta per slogan dalla parte dei cittadini e contro la politica, e poi tutto il discorso del passato, è inutile parlare del passato, basta, nel senso che il passato è passato. L'asse Gatti-Tancredi è un asse che guarda al passato o che guarda al futuro? Ma guardi, Paolo è un amico, con cui siamo partiti in politica insieme, sono vent'anni e più che ci conosciamo, abbiamo avuto spesso anche motivo per essere su fronti opposti, anche se è sempre all'interno di uno schieramento. Io dico, se si candida Paolo Gatti, io non so se Paolo Gatti si vuole candidare, ma se si candida Paolo Gatti, io dico magari, nel senso che è per me, in questo momento, posto che io sarò assolutamente dalla parte di chi vorrà superare l'attuale assetto e l'attuale amministrazione, io tra le possibili candidature non ne vedo di migliori oggi. Però fece cadere l'amministrazione Brucchi e se è caduta l'amministrazione Brucchi, forse è un po' colpa anche di Paolo Gatti che ci ritroviamo questa amministrazione. Le colpe della caduta dell'amministrazione Brucchi sono di tutti e quando Paolo Gatti e il gruppo, gli amici di Paolo Gatti, hanno ritirato l'appoggio alla giunta Brucchi, voglio dirvi che erano in 12. La maggioranza già non c'era più, era già frammentata e quasi conclusa quell'esperienza.